Ciao Giappone, come va? Connichià, a tutti i giorni, buongiorno? Fa tanto caldo qui. È molto azzurro. Anche da voi, vero? Anche voi sono azzurro. Siamo contenti perché è una bella annata e abbiamo le olive. Siamo molto felici, perché le olive si stanno crescendo bene. Siamo molto bene, e non c'è la bosca. E tramite il mio olio ci sentiremo vicini e potremo comunicare sempre meglio. Ciao a presto, ciao. Ciao a presto, ciao. Ciao a presto, ciao a presto. Ciao a presto, ciao a presto. Ciao a presto.